Ciao dottore, buonasera. Tutto a posto. Senti, è vero che sono venuto a parlare nell'anzi mio amore, però, visto che ci troviamo, io ho un problema, ho da giorno un mal di schiena che proprio mi affligge, mi fa male. Come mai? Come mai? Come mai? Come mai? Dottore, io lo scopo dalla mattina alla sera per pagare le tosse, ce ne sono. E quella è l'ernia del frisco. Mi è venuta, mi è venuta così, mi è venuta. Vabbè, come stai nell'anzi mio amore, dottore? Dottore, dottore, tutto a posto. Tua moglie è incinta. Cominci. No, non è possibile. Dottore, non è possibile perché io sono stato attento, anzi, io sono stato attentissimo, sicuro. Vedi Giovanni, è un po' come quando sei nel traffico. Giovanni? Cioè, tu stai attento, gli altri no. Come, come? Io sono statento, io. Cioè, non è stato attento con i nostri? All or, qual è questo? Vabbè! 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 Vabbè, Vabbè! Vabbè, Vabbè! Vabbè! Vabbè, Vabbè, Vabbè! Vabbè, Vabbè! Vabbè, Vabbè! Vabbè! Vabbè, Vabbè! Vabbè! Grazie.